Claudio Signorile, a lungo ministro e vice segretario PSI, torna sulla scena politica. Lo fa presentando il suo movimento Mezzogiorno Federato, presente nelle sette regioni delle sud e deciso a rivendicare un ruolo attivo per il meridione. Più investimenti, infrastrutture, crescita legata al PNRR e all'Europa. Nell'immediato il nuovo soggetto politico si impegna per i 5 sì ai referendum sulla giustizia e mette già in agenda di presentarsi alle prossime elezioni politiche. La ragione sociale di Mezzogiorno Federato è federare i poteri, dico anche io, le attese, le prospettive, le risorse del Mezzogiorno in una realtà nella quale il Mezzogiorno si avvia ad essere un punto di riferimento crescente per lo sviluppo dell'Italia e per la presenza dell'Europa nel Mediterraneo. Il Mezzogiorno Federato partecipa in questo senso al ricambio della classe dirigente. Uso il termine ricambio perché è quello intorno al quale si svilupperà la politica italiana nei prossimi mesi. Si andrà alle elezioni del prossimo anno. A queste elezioni noi ci saremo. Ci saremo con i nostri alleati, ci saremo con un discorso che abbraccia necessariamente attraverso il dialogo con i civici, il dialogo con gli ambientalisti, la logica del semaforo tedesco trasportata in Italia. Ecco, tutto questo diventa oggetto di un progetto politico. E questo progetto politico noi siamo, vogliamo essere protagonisti. Grazie. Grazie.